Ciao, oggi parliamo del rapporto che lega gli intellettuali dell'umanesimo al potere, quindi alle persone che, nell'umanesimo appunto, detengono il potere. Tra 1400 e 1500 si affermano le signorie, un po' ovunque, nel nord e nel centro Italia specialmente. L'eccezione in questo quadro è Firenze, perché rimane più a lungo repubblicana, quindi conserva la sua forma repubblicana appunto più a lungo rispetto alle altre realtà del centro-nord Italia. Quindi gli intellettuali fiorentini di quell'epoca, esempio Bruni, ad esempio Bracciolini, sono intellettuali che sono ancora legati ad un contesto comunale. Ad esempio, partecipano alla vita politica della città in modo attivo in prima persona, esattamente come aveva fatto Dante. Invece, la tendenza in altre parti della seconda metà del 1400 è quella invece dell'abbandono della forma comunale appunto per andare ad instaurare le signorie. I signori all'interno di queste signorie si dotano di cortigiani e formano una corte. Da chi è formata la corte? La corte è formata dalle elite cittadine, cioè dagli amministratori, ma anche dagli intellettuali, dagli artisti. Il fenomeno quindi che caratterizza le signorie è quello del mecenatismo. Mecenatismo. Che cos'è il mecenatismo? È un fenomeno che consiste nell'investire il proprio patrimonio, le proprie risorse, a volte anche in modo ingente, grande, per incentivare gli artisti, per sostenerli, a volte proprio per mantenerli. Quindi è un investimento, a volte ripeto anche cospicuo, a fini artistici, cioè al fine di protezione dell'arte. Perché questa dinamica? Allora, sicuramente per acquisire prestigio internazionale. Attenzione, mi raccomando, internazionale non significa necessariamente e solamente tra Italia e estero, ma anche tra una città e l'altra. Abbiamo detto che ormai le città in quest'epoca sono autonome, quindi ognuna costituisce una specie di piccolo stato, insomma, in Italia. Quindi quando parlo di prestigio internazionale vuol dire proprio prestigio rispetto magari alla città confinante, ecco. Quindi sicuramente per acquisire prestigio, lustro, per farsi grandi rispetto ad un'altra città, ma anche per alimentare il consenso interno. Cosa vuol dire questo? In generale, i signori delle signorie vogliono che gli artisti che loro mantengono, che loro sostengono economicamente, mostrino attraverso quello che sanno fare, quindi mediante l'arte che a loro è più congeniale, se la letteratura la letteratura, se le arti figurative le arti figurative, i concetti di armonia e equilibrio, di benessere, che i signori vogliono costruire nelle loro corti. Gli artisti mostrano, cioè, il sogno che il signore sta provando a portare avanti nella propria città, che sta provando a concretizzare. È come se gli artisti facessero un po' propaganda politica. E in questo senso ho parlato di consenso. Attraverso l'arte si vuole diffondere un messaggio politico. Quindi capite la forte connessione. Quello che i signori vogliono proporre è un modello di perfezione e armonia, in cui tutto funziona bene. Naturalmente, se tu sei signore di una città, vuoi far vedere a tutti che la tua città funziona a meraviglia, mi pare chiaro. E questo gli artisti lo propongono nelle varie opere che fanno. Questo cosa significa? Significa che a corte la sfera artistica, culturale e politica si legano in modo forte. Pensate alla corte come a un circuito chiuso. Cosa significa un circuito chiuso? Significa che tutto si produce e si consuma nello stesso posto. Mi spiego. La corte è il luogo che mantiene la cultura, l'abbiamo detto. Ma è anche il luogo che produce la cultura, perché gli artisti vivono in quella corte e la fanno sulle idee di quella corte. Ed è anche il luogo dove si consuma la cultura, perché la corte è anche il pubblico. Quindi la corte mantiene, la corte è l'ambiente di produzione e la corte è il pubblico. È chiaro che torna tutto, è un cane che si morde la coda. È tutto lì, è un circuito chiuso. È un circolo, cioè, ristretto. L'artista è un cortigiano che produce arte rivolta alla corte. Fino a qui tutto bene, potremmo dire, perché abbiamo visto la corte come un centro di produzione artistica anche di alto profilo, anche di alto rilievo, e dagli straordinari anche risultati. L'immagine, però, dell'umanesimo che stiamo andando a costruire, fate attenzione, non è da interpretare come solo positiva. In verità, come sempre, quando l'arte si accosta alla politica, va a braccetto con la politica, si vengono a creare degli attriti, dei dubbi e delle difficoltà. Questo perché? Perché l'arte, almeno in teoria, dovrebbe essere libera. L'artista dovrebbe sentirsi libero di poter dire quello che vuole, anche andando contro, chiaramente, al potere. È chiaro, invece, che se l'artista è un cortigiano che è mantenuto dal Signore, è chiaro che non possa esattamente dire tutto quello che vuole. Il primo problema, infatti, che emerge è quello del servilismo, cioè l'intellettuale che, appunto, dipende in tutto dalle risorse, dagli soldi, diremmo, del Signore, con l'andare del tempo cercherà sempre di più di lodarlo, questo Signore, di portare lustro, di elogiarlo, mi pare chiaro, è comunque il suo padrone, in poche parole, no? Questo genera un atteggiamento di adulazione, di servilismo. L'artista rischia, cioè, di non essere un libero pensatore, ma di essere legato in modo squilibrato a ciò che vuole il Signore e a ciò che vuole la Corte e di cui, esagerando, forse, possiamo dire che ne diventa il servo. Poi proseguiamo. L'intellettuale produce cultura per la Corte, lo abbiamo detto, che è il pubblico dell'intellettuale. Il rischio è quello di un isolamento, di una chiusura. Cioè, il poeta rischia di non avere il riscontro di un pubblico variegato, ma di un pubblico che è molto omogeneo e che è sempre quello. Mi spiego diversamente. La Corte è molto omogenea a livello sociale, è comunque un cetto medio-alto, ed è sempre la stessa, non è che ammette nuove entrate, non è che ammette nuove persone, e in questo modo l'intellettuale rischia di confrontarsi sempre con gli stessi gusti, sempre con le stesse persone, sempre con gli stessi aspetti. È chiaro, quindi, che l'artista rischia di riprodurre sempre e costantemente ciò che funziona, senza provare a tentare idee nuove, a usare con delle novità. Cioè, se lui ha un pubblico davanti a cui piace una cosa, perché rischiare provando a proporgliene un'altra, se il pubblico è sempre lo stesso? È chiaro che tenderà a fare sempre quella cosa che al suo pubblico piace. Il rischio, quindi, è quello della chiusura in modelli che possono diventare ripetitivi per piacere ad un pubblico che è sempre lo stesso. Che cosa si intende, invece, per occasione? Allora, l'occasione è il momento, l'avvenimento particolare. Spesso i poeti erano tenuti a comporre per qualche occasione particolare, tipo le vittorie, i matrimoni, le feste, un battesimo, un compleanno, eventi, appunto, occasioni particolari. Dal momento che il poeta è mantenuto, è chiaro che non può sottrarsi. Magari non è che gli piaccia proprio scrivere per un matrimonio o per un battesimo, però, insomma, lo deve fare. Questo, quindi, può essere un problema, perché l'artista è chiamato a scrivere i propri testi non inseguendo la propria ispirazione, come ci aspetteremmo, in modo libero, ma per rispondere a precise richieste. Potremmo dire a commissione, a comando, ecco. E in più non è finita, perché l'artista deve ovviamente stupire ogni volta la corte, sorprenderla. Non è che gli puoi propinare sempre la stessa roba. È chiaro che dopo un po' si annoierebbe. Appunto, il rischio è quello della noia, è quello che la corte a un certo punto non lo ascolti più. E quindi deve dare sempre qualcosa di migliore, qualcosa che è sempre un po' meglio della volta prima. Questa, lo capite, è una dinamica complessa, molto complessa, perché lega l'intellettuale a precise richieste. E, ovviamente, questo ha delle ricadute sulla qualità. Se io sono un intellettuale, mantenuto, che deve soddisfare i gusti di una corte, che non può osare facendo cose nuove che magari mi piacerebbe provare, perché no? Ma allo stesso tempo devo stare a scrivere per il matrimonio del figlio del Signore. Però devo anche provare a stupire la corte, perché si ricorda, invece, quella cosa che avevo scritto per il matrimonio della figlia del Signore. E, se gliela ripropino uguale, si annoierebbe. Capite che questo innesca tutto un meccanismo davvero complicato. E non è finita, perché ci sono altri problemi che toccano l'intellettuale di corte. Innanzitutto, spesso il Signore affida anche incarichi politici e diplomatici, oppure usa gli intellettuali che stipendia come precettori, maestri, oppure anche come segretari. Cioè, l'idea di base è io pago il poeta che sa leggere e scrivere molto bene. Allora, lo sfrutto anche per altre attività che prevedono le medesime abilità. Sono trattati, cioè, per farla breve, come dei professionisti, più che come artisti liberi e liberi pensatori. Questo può essere anche comprensibile e tutto sommato anche accettabile. Perché? Perché tutto sommato se tu paghi una persona pretendi che faccia un lavoro. Ma vedremo come questo sia talvolta vissuto come un peso, come un fardello molto pesante da parte dell'artista che lo vive appunto come un tempo sprecato, come un tempo che potrebbe invece impiegare per fare qualcosa che lo soddisfa di più. Il rischio, quindi, è quello che l'intellettuale si senta insoddisfatto, che non raggiunga la propria soddisfazione, realizzazione personale, ma anzi, che possa vivere tutto ciò come un'umiliazione, come un abbassamento del suo livello. Infine, parliamo di precarietà. In quest'epoca ci sono molti centri culturali che corrispondono a molte signorie. Gli intellettuali, quindi, sono molti e chiaramente devono curare i propri interessi. Spesso, infatti, si muovono di corte in corte alla ricerca del Signore che è in grado di mantenerli meglio. Questo significa che, a volte, gli intellettuali sono liberi di circolare e questo fa sì che circolino anche le idee per un confronto proficuo. E questo sicuramente è un lato positivo. Guardiamo però l'altra faccia della medaglia. Questo porta ad avere poche certezze, poche radici. Pensiamo a Dante. Dante, anche quando è in esilio, lontano da Firenze, sente sempre molto forte il legame con la propria città. Ora, invece, gli intellettuali rischiano di essere degli spiantati, dei senza legami, senza patria. Cioè dipendono semplicemente dalla volontà e dal volere dei loro signori, che, ovviamente, sono anche molto volubili, cioè possono cambiare idea anche molto facilmente. Quindi il rischio per gli intellettuali dell'umanesimo è quello di essere sempre in balia di gusti che possono cambiare improvvisamente e anche inaspettatamente. E quindi si possono trovare improvvisamente tolti i privilegi che prima gli erano concessi. Dunque possiamo cominciare a tirare delle conclusioni e possiamo chiederci se l'intellettuale di corte del 1400-1500 sia veramente libero. Non c'è una vera risposta a questa domanda perché, attenzione, ogni artista percepirà in modo soggettivo più o meno i problemi che abbiamo affrontato finora, cercando di trovare un equilibrio che sia proprio tra il suo essere intellettuale e il suo essere cortigiano. Questo significa, mi raccomando, che non tutte le opere dell'umanesimo valgono poco, contano poco perché sono frutto di una dipendenza del Signore. Ciò che studiamo dell'umanesimo, infatti, sono quegli autori che hanno saputo, magari anche faticosamente e magari anche dolorosamente, trovare un equilibrio da un lato partecipando alla vita della Signoria perché da quella pur sempre sono mantenuti e dall'altro provando a ritagliarsi degli spazi di libertà. Un conto, mi raccomando, è il contesto e un conto è come poi ogni singola persona, ogni singolo intellettuale, risponde al contesto in cui si trova immerso. Le due figure di Ariosto e Machiavelli, due autori più o meno contemporanei, ci permettono proprio di vedere due diverse reazioni. per Ariosto il rapporto con la corte degli estensi a Ferrara è piuttosto complesso. Lui sente molto il peso di svolgere delle mansioni politiche, delle attività che lo tengono lontano dalla sua vera passione letteraria, dei doveri che il suo signore gli carica. Naturalmente, sente che la vita di corte è necessaria per potersi mantenere, ma si sente, e lo dice lui, quindi è una citazione, come un uccello in gabbia. Per Machiavelli, invece, il discorso è un po' diverso. Innanzitutto, siamo a Firenze, nel periodo di passaggio tra la fine della Repubblica e la signoria della famiglia Medici. Poi, c'è un'altra differenza. Lui è un uomo di potere, è un uomo che partecipa alla vita politica e ha moltissima ambizione politica. È un uomo che desidera mettersi in campo, cioè nella politica in prima persona. Quindi, attenzione, affronta in modo differente le dinamiche che sono le medesime, diciamo, di Ariosto. Però, attenzione, c'è anche un lato in comune. Lui avverte moltissimo il senso della precarietà, della fragilità, delle cose che possono continuamente cambiare. E, infatti, sente moltissimo di dipendere dagli altri potenti della città di Firenze.